Non era nemmeno quotato che me lo sarei preso immagino. Amiche e amici e belle persone in genere bentornati sul mio canale, bentornati su Secondo Tava, io sono Stefania Sperandio, se hai preferito è Tava, da un sacco di anni lavoro nell'informazione videoludica ma da qualche anno esiste anche Secondo Tava che è il mio spaziato personale dove parlo delle cose che mi appassionano e che mi piacciono secondo me e ovviamente tra le cose che mi piacciono, credo che non sia assolutamente un segreto, c'è anche la saga di Metal Gear, motivo per il quale, come dicevo nell'introduzione, Praticamente non era nemmeno quotato che, saputo che stava arrivando il volume dedicato a Metal Gear Solid di questa collana, io andassi a prendermelo per vedere com'era. Questo è, si trova in Edicola, penso si trovi ancora, praticamente è il decimo volume di videogiochi leggendari che è quella serie a fascicoli che sta arrivando in Edicola, praticamente ogni fascicolo è dedicato a una saga e la approfondiscono. Siccome è un po' misteriosa la cosa, nel senso che non c'è il nome dell'autore, non si capisce bene chi abbia scritto queste cose, ho deciso di comprare quello di Metal Gear perché ero curiosa di sapere come sarebbe stata trattata la saga, cosa sarebbe stato proposto in questo volume, insomma, se potesse essere o no una lettura interessante per gli appassionati della saga o magari anche per i neofiti che volevano scoprire qualcosa di più su Metal Gear. Allora, sappiate che l'ho praticamente divorato e adesso vi parlo dei contenuti, per quanto riguarda l'edizione mi pare che il singolo volume costi 10,99€ che non è poco, non è tantissimo ma non è poco perché comunque è un'edizione abbastanza battagliera, nel senso che si ha una bella rilagatura, non so se riesco a farvela apprezzare da questa inquadratura, però mi è dispiaciuto un po' per questa copertina cartonata che è un po' cheap, nel senso che sembra un po' una versione economica, cioè è una cartonata però economica perché è di quel cartone che non so se si vede nella videocamera ma appena prende una botta rimane subito il segno perché si comprime. Carina in compenso la finitura per cui c'è praticamente questa parte, si vedrà sicuramente come lo giro nella luce, il logo qui è fatto come se fosse metallizzato, come se avesse questa specie di grana metallica sopra che riflette la luce, molto carino anche sul nome del gioco. Loro l'hanno chiamato Metal Gear Solid tra cinema e videogioco, videogiochi leggendari alla catena ed è pubblicato da RDA. Allora questo volume in realtà è realizzato da un autore spagnolo, visto che significa che il testo in italiano è tradotto dallo spagnolo. All'interno l'impaginazione è piuttosto leggibile, hanno lasciato un buon interline e soprattutto dei buoni margini per permettervi di leggerlo comodamente, anche andando avanti le margini rimane buono. Una cosa molto interessante che vi posso dire è che sebbene tutto il testo sia saggistico e quindi è nero su bianco appunto, non aspettatevi una roba tipo artbook, c'è un piccolissimo inserto a metà, non ve lo spoilerò troppo se magari volete comprare il volume, dove ci sono delle piccolissime immagini tipo come è cambiato Snake nella serie oppure quali sono stati gli spin off, insomma un piccolo inserto carino che dà un po' di colore che magari aiuta a orientarsi o avere dei piccolissimi riepiloghi. Anche alla fine dopo la parte saggio ci sono ad esempio delle sezioni come la timeline della saga o quali sono le personalità chiave del franchise di Okujima, di Oji Shinkawa, quindi c'è un po' un'infarinatura generale. Da questo punto di vista devo dire che come contenuti hanno cercato di toccare un pochino tutti i punti. Per quanto riguarda invece la trattazione del testo in sé, il mio dubbio era, ok ma con un volumetto così, in una collana generica, quanto si può dire effettivamente della serie di Metal Gear? Devo dire che è stata una lettura interessante. La prima cosa che mi è piaciuta è che è scorrevole, quindi il modo di raccontare è quello che a me piace per questo tipo di retrospettive, ossia anni fa effettivamente un racconto. Ti racconta ad esempio dei dubbi del giovane ideo che era innamorato del cinema, voleva lavorare con le narrazioni, poi ha trovato nel mondo dei videogiochi la sua strada eccetera eccetera, come se fosse un racconto, no? Come se, eh ma c'era un ostacolo perché le altre persone gli dicevano che, eh ma lui pensò, perché ti rende questa cosa molto più appassionante che fare un elenco diacronico di succede questo, succede questo, succede questo, senza farti vedere come si sono innescate le cose. Questo libro è scritto in quel modo lì, con gli inneschi, con i racconti, con le riflessioni, quindi scorre molto bene. Non a caso, secondo me, la parte migliore di tutto, tutta la parte saggistica del testo è proprio quella che racconta il retroscena della serie. Ci sono delle curiosità molto belle, citate anche da documentari ufficiali che magari oggi è difficile reperire, su come erano nate le idee dietro gli episodi, quando sono stati avviati i lavori, come magari è venuta la scintilla per fare questa cosa, come si è pensato, che ne so, a Raiden. Ci sono tanti retroscena carini che secondo me possono essere interessanti sia per chi sa tanto della saga, sia per chi non ne sa niente e vuole capire, cercare di avvicinarsi, capire cosa ci sia di eccezionale. Molto più lacunosa, secondo me, ma ha senso perché, insomma, stiamo parlando di un volume di neanche 200 pagine. Sono 140, compresa la parte finale con tutte le schede, eccetera. Sono 134 le pagine del saggio. È molto più lacunosa la parte dove racconta la vicenda in sé all'interno dei giochi, dove l'autore è stato estremamente sintetico, a tratti superficiale, tagliato un po' in corto su certe cose, però ribadisco, ha senso. Se no questa roba ti diventava tipo l'Antico Testamento. D'altro canto può essere magari un po' stile per chi della saga non sa granché, dice vabbè ma di cosa parlano sti giochi. È proprio un'infarinatura generale, ecco. Su cosa dice la saga nella sua scrittura ci sono i macrotemi, però è proprio un'infarinatura molto molto ampia. Quindi se lo volete leggere perché volete ripercorrere la storia di Snake e Big Boss in tutti gli episodi, su quello è un po' superficiale, un po' lacunoso. Se lo volete leggere invece perché volete ripercorrere la storia in questo mondo, nel mondo reale di come sono nati i diversi episodi di Metal Gear, qual è stato l'impatto, quali pensieri di Konami, quali dati di vendita, insomma la parte un po' più industri, allora può essere una lettura molto interessante. Dal punto di vista della traduzione vi faccio anche questo appunto. Devo dire che l'edizione è piuttosto ben curata, non ho trovato rifusi, anche il linguaggio utilizzato non è una scrittura terra a terra, ecco nel senso non è troppo ripetitivo o cose del genere. C'è giusto qualche episodio in cui la traduzione magari è un po' troppo letterale dallo spagnolo e quindi dice oddio questa frase non suona benissimo in italiano, ma sono tipo 3-4 momenti in tutto il libro. Devo dire che è stato curato abbastanza bene. Nel complesso quindi, devo dire che è stata una lettura gradevole, lo aggiungerò volentieri alla mia collezione, anche perché mo' me lo sono preso e quindi volente o nolente mi fosse piaciuto o no alla collezione si aggiungeva, però così almeno ce lo aggiungo volentieri. È una lettura che può essere interessante sia per gli esperti che per i neofiti, ribadisco a patto che non stiate cercando la macro spiegazione di tutti i significati e i temi di Atrometal Gear, perché da quel punto di vista si poteva fare di più, ma sarebbe diventato tipo il doppio o il triplo. Come in alcuni passi tra l'altro ammette lo stesso autore che dice questa parte meriterebbe un libro solo di per sé. Quindi c'era anche la consapevolezza da parte di chi ha scritto che alcune parti avessero bisogno di molto più respiro, ma evidentemente i volumi dovevano avere questo formato. Per il formato che ha dice tanto, certo 11 euro per questo volume non è il prezzo più economico del mondo, ma ho visto volumi sui videogiochi costare sensibilmente di più, può essere molto interessante da leggere, non è sconvolgente ma può essere molto interessante da leggere, penso che sia questo il riassunto. Fatemi sapere se anche qualcuno di voi è andato in edicola a prenderselo, come l'avete trovato, se c'è qualcosa che vi incuriosito, o se ne avete preso di altri giochi, perché io per adesso ho preso solo questo, gli altri li ho ignorati, anche se mi sarebbe interessato molto anche quello di Zelda ad esempio. Per oggi direi che basta così, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava, ci vediamo presto su Secondo Tava. Grazie a tutti.